Delle gigantesche scarpe rosse racchiuse all'interno di una gabbia, è proprio una gabbia la violenza contro le donne. Questo è il messaggio forte che parte dal Valdichiana Village grazie a questa installazione. Le donne vivono un isolamento che le rende sempre più fragili, più debole. E invece la comunicazione è la vera forza in questa cosa. Le donne devono smettere, lo ripeto, di fare le croce rossine, di voler salvare il mondo. Se noi siamo bene, se ci rispettiamo, se ci amiamo, salveremo davvero il mondo. E poi non è più accettabile, è impossibile, 120 donne uccise in un anno. È una mattanza. Come ci si può abituare a questa cosa? Per me è insopportabile e questa scultura è un grido, ma è un grido di vita, non è una scultura, è un grido di tristezza, è un grido di lotta. Aprite questa gabbia, volate, uscite, lasciate la guzzino in gabbia, non date assolutamente mediazione di niente. Solo così possiamo liberarci di questa tragedia, perché è diventata una tragedia. La pandemia ci ha messo di fronte al fatto che dal punto di vista soprattutto economico e di riconoscimento verso le donne abbiamo fatto passi indietro. Sicuramente, anche perché si dà per scontato, non si capisce per quale cliché forse antico, per cui la donna è dedicata fondamentalmente alla cura. Che sì, può essere una sua predisposizione naturale, ma non può essere esclusiva. Che sia una scelta, ribadisco per l'ennesima volta, che qualsiasi che fosse la scelta deve essere libera. E per essere libera è necessario che sia paritaria, cosa che oggi come oggi non è. Tanto per citare una cosa, anche nelle pubbliche amministrazioni non si capisce perché la maggioranza delle donne sono impiegate, ma laureate, ma i dirigenti non è così. Uno degli aspetti meno conosciuti della violenza contro le donne è la cosiddetta violenza economica e anche su questo le istituzioni si stanno muovendo. La regione toscana è una regione che investe molto sulle politiche contro la violenza sulle donne. I finanziamenti per i centri antiviolenza, per le case rifugio, per le case di accoglienza, sono ogni anno in crescita. Abbiamo messo a disposizione delle risorse per il reddito di libertà, insomma, dei finanziamenti da dare alle aziende che assumono donne che hanno vissuto questo dramma. Mi viene in mente l'indirizzo fittizio quando sono nelle case rifugio per ricevere la corrispondenza, perché, insomma, volendo si trova, insomma, anche i recapiti, oltre, insomma, veramente a tutte, tante azioni che vanno nella sensibilizzazione, il numero 1522, cerchiamo di scriverlo ovunque, nelle tramvie, nei bus, la grande distribuzione ci viene dietro in questa sensibilizzazione. Ecco, dobbiamo assolutamente non smettere mai di abbassare la guarda e ogni piccola azione, ogni piccolo tassello è importante per comporre la rete della prevenzione e della tutela. Ed è a Retino il primo comune in Italia, l'Oro Ciuffenna, ad aver ottenuto la certificazione per parità di genere. Gli antilocali possono essere di esempio per la comunità, per la società, che si può stare bene al lavoro, fare in modo che donne e uomini abbiano, come dire, la stessa carriera e abbiano la possibilità anche di bilanciare la vita lavorativa e la vita sociale e la vita familiare. È un messaggio importantissimo e se viene da un comune, tra l'altro, relativamente piccolo, delle aree interne, è ancora più importante, perché i comuni della Toscana sono comuni dove la qualità della vita è migliore, e soprattutto di quelli più piccoli, in questo caso anche la qualità del lavoro, quindi ci si sta bene e ci si può lavorare anche bene, donne e uomini allo stesso modo.